Allora, buonasera a tutti di nuovo, l'argomento di questa serata è a mio parere molto importante per introdurre un ciclo di serate a cui Roberto insomma vuole dare un certo peso all'interno di Keshe cioè un ciclo di serate sull'etica, sul peso etico che c'è nella tradizione ebraica il problema di fondo è in qualche modo dare non solo principi fondamentali etici ma anche risvolti pratici per chi vuole seguire quello che è l'insediamento dei maestri e quello che è il comportamento religioso di un ebreo e come prima lezione non potevo che iniziare dal vedere in generale l'ebraismo che peso etico ha cioè la domanda di fondo è interpretare il pensiero rabbinico rispetto all'etica e partirei subito non solo dal citare la prima fonte che voi trovate a pagina 2 in alto che è la fonte per eccedenza dell'etica ebraica che è il primo versetto che trovate al punto 1 che è quello che cercheremo di commentare stasera traduzione non ti vendicherai, non servirai lancore verso i figli del tuo popolo ma amerai il tuo prossimo nome te stesso io sono Dio in realtà questo versetto è molto particolare perché in realtà secondo i maestri raggruppa tutta la Torah infatti guardate la fonte 1 del paragrafo successivo amerai il tuo prossimo sistema come te stesso questo secondo rabbia Kiva è la più grande regola della Torah cioè K'lal vuol dire regola onnicoprensiva cioè un K'lal è una regola generale Prat invece è una regola specifica, un dettaglio K'lal gadolba Torah vuol dire la regola più grande della Torah in qualche modo bisogna capire come questo versetto e perché raggruppa tutta la Torah in sé ora ovviamente questo versetto è un versetto a che fare con l'etica perché dice amerai il tuo prossimo come te stesso quindi ha a che fare con il rapporto col prossimo nello stesso tempo però dice io sono Dio quando lo commenteremo vedremo il dettaglio di queste due cose ma vorrei subito partire con un famoso Midrash cioè il Midrash da cui poi in realtà tutta la tradizione comincia a partire cercando di spiegare perché rabbia Kiva ritiene che questo e non altri sia uno dei K'lal più importanti della Torah o addirittura il più importante della Torah ed è quello che trovate la fonte subito dopo che è B'azzebeno chriechad che va rifnei Shammai accadde che un goi andò davanti a Shammai va a amarlo gli disse convertimi a condizione però che tu mi insegni tutta la Torah nel tempo in cui sto su una gamba sola che voleva dire il goi? era un giochino per vedere quanto veloce era il leo? no a condizione che tu mi insegni tutta la Torah nel tempo in cui sto su una gamba sola vuol dire insegnami qual è il fondamento della Torah qual è la gamba della Torah l'unica gamba della Torah dimmi tutta la Torah non sono in breve cioè nel tempo in cui sto su una gamba sola ma dimmi tutta la Torah dimmi la gamba della Torah dimmi voglio sapere la base della Torah e il punto 2 del secondo paragrafo fu a pagina 2 e risponde Shammai con una risposta fisica non verbale lo colpì con il metro che aveva in mano cioè lo scacciò con uno strumento che indica misura come dire tu vorresti dirmi che la Torah che è più infinita del mare ha un principio fondamentale che la può raggruppare tutta è impossibile tu non hai il senso delle proporzioni frattere in realtà questo goi va da il leo ubalifne il leo e poi va da il leo e gli pone la stessa domanda e il leo gli dà una risposta che dobbiamo interpretare dice ma ce sonè alekha ma ce sa no alekha scusate ma ce sa no alekha altase alekha dre ciò che è odiato da te non farlo il tuo prossimo veseo icco la toracula e questa è tutta la Torah il resto è commento vai e studia in realtà qui cosa sta dicendo il leo ti do il principio che comprende tutta la Torah il resto però è assolutamente intrinseco in questo quindi è commento è approfondimento di questo deriva da questo però studialo cioè devi studiare tutto il resto cioè non puoi applicare questo concetto generale senza sapere i dettagli ora la domanda è perché cosa voleva dire il leo con questa affermazione attenzione che è ben problematica questa affermazione qua perché l'el sta dicendo che tutta la Torah non è altro che comportamento etico cioè sta dando piso alle mitzvot adesso il prossimo quasi in modo sproporzionato perché sta dicendo attenzione che l'el non ha detto al goi mangia kasher questa è tutta la Torah e resta commento vai o fai tefillah questa è tutta la Torah o non so altre mitzvot verso Dio fai shabbat e tutto in realtà shabbat è anche una mitzvot verso l'uomo ma oppure credi in Dio questa è tutta la Torah e no dice non fare agli altri quello che non volesti fosse fatto a te quindi vuol dire che sta dicendo che il senso ultimo della Torah l'obiettivo della Torah in generale è il senso etico guardate che la gematria cioè la numerologia ebraica fa corrispondere il valore della parola Torah 611 perché Torah 611 se abbiamo 613 se abbiamo 613 di svot perché due non sono perché due sono i comandamenti che Dio ha dato per sua bocca direttamente al popolo israele io sono il tuo Dio non aveva altri dei e questi non vengono conteggiati adesso poi vediamo perché non vengono conteggiati comunque il valore 611 corrisponde all'espressione in ebraico che si dice gemilut chassadim opere di misericordia verso il prossimo la parola Torah corrisponde gemilut chassadim e gemilut chassadim è uno di quei commenti a cui si riferisce l'el cioè di quelle norme pratiche intrinseche alla norma che ha detto il l'el quello che però ci resta che dobbiamo capire stasera è come dimostriamo sull'interpretazione dei maestri che questo versetto da cui il l'el tra l'altro deriva un principio negativo perché il l'el parte da un principio negativo a non fare agli altri una cosa corrisponde poi a tutta la Torah già un indizio l'abbiamo avuto se sulla Gematria Torah 611 corrisponde a gemilut chassadim 611 infatti i maestri sottolineano che l'essenza etica della Torah attraversa tutte le sue componenti anche le norme rituali il versetto che noi abbiamo citato dice amo il tuo prossimo o te stesso e io sono Dio quindi vuol dire che in qualche modo qui Dio è sì la fonte del comandamento guarda che sono io Dio che te dico che l'etica la decido io cioè amo il tuo prossimo o te stesso questo è ovvio perché perché se non fosse così l'etica sarebbe relativa cioè quello che è giusto per me non è giusto per te invece l'etica universale deve essere per forza divina altrimenti è relativa al tempo allo spazio quindi io sono Dio non è solo in funzione del fatto che sono io il legislatore dell'etica perché altrimenti l'etica diventa relativa quindi l'etica non è un prodotto sociale ma lo decido io che sono Dio ma è anche io sono Dio nel senso che se tu rispetti questo rispetti me ora in che senso possiamo cominciare a capire che la Torah in se stesso secondo il Lel e poi secondo la letteratura dell'etica è finalizzata ad un aspetto etico non solo perché Maimonide dice le mitzvot servono per fare per costruire pace nel mondo eccetera eccetera ma proprio perché ad esempio la Torah raggruppata con il decalogo che è il sundo è la somma della Torah in se stessa è prevalentemente se non assolutamente etica è vero che le due tavole sono divise la tavola verso Dio e la tavola verso il prossimo in realtà qui i maestri sottolineano che anche la tavola verso Dio è verso il prossimo nel senso che a parte i primi due infatti Torah vale 611 e Gemilut e Sardin vale 611 a parte io sono Dio e non avrei altri dei tutti gli altri comandamentano a che fare anche con il prossimo non pronunciare il nome di Dio in vano significa anche non giugare nel nome di Dio di fronte a qualcuno o non strumentalizzarti non farti strumento del nome di Dio per agire di fronte al prossimo un po' come fanno quelli dell'Isis ok e ovviamente lo Shabbat ovviamente i genitori ok quindi e ovviamente tutti i comandamenti della seconda tavola non uccidono rubare eccetera eccetera quindi già da questo punto possiamo capire perché il Ler sceglie questa risposta al guerra gli dice io ti dico qual è l'unica gamba dell'ebraismo cioè la gamba principale dell'ebraismo che è non fare agli altri quello che non vorresti fare a te perché usa un principio negativo dicono i maestri usa un principio negativo perché è la prima cosa che dobbiamo fare perché il versetto che noi abbiamo citato se torniamo alla prima fonte è lo di conve lo di to e te ne ha non ti vendicherai ma sembrerai l'ancore verso il direi il proposito quindi da qui impariamo che la prima cosa che dobbiamo fare è saper non danneggiare il prossimo quindi non vendicarsi non servare l'ancore qui Rashi spiega cosa significa non vendicarsi vendicarsi vuol dire non fare all'altro quello che non vorresti che fosse fatto a te cioè se qualcuno non ti ha prestato qualcosa Rashi per esempio della vang tu non puoi dire ah così come tu non l'hai prestata io non te la presto ma non servare l'ancore vuol dire anche prestargliela con riserva nel senso vabbè io te la presto perché sono meglio di te che tu non me l'hai prestata quindi questo non servare l'ancore quindi quindi il primo step dice il Lel forse quello ancora di fondo è non farà gli altri e qui dentro questo non farà gli altri ci sono dentro tutte le mizvot lota a sé verso il prossimo tutte le mizvot negative tutte le mizvot non farai verso il prossimo ecco perché Lel dice tutto il resto è commento vai a studiare vuol dire che tutto il resto della Torah è implicito è implicato in questo e quindi devi studiare cosa devi studiare prima di tutto tutte le mizvot non fare non rubare non uccidere non fare falsa testimonianza eccetera infatti nella fonte 3 si spiega esattamente secondo il T.I.A.K.A. si spiega esattamente cosa intendeva dire quello che più o meno abbiamo già detto cioè ok quello che più o meno abbiamo già detto cioè che la Torah la richiesta del Goi è sapere qual è la gamba unica della Torah cioè il punto di partenza il punto unico versivo non tanto non tanto il giochino di quanto tempo ci metti a dirmi tutta la Torah il Sefer Akinuch che è la quarta fonte a pagina 2 chiaramente dice cosa implica quindi in più però questa mitzvah perché effettivamente il El dice non fare agli altri quello che non pensi fosse fatto a te però e questo si può capire dalla prima parte del versetto cioè non ti vendicherai non salverai dal cuore verso i fili del tuo popolo ma dalla seconda parte del versetto in cui è scritto ma oppure perché viene tradotto con ma è possibile anche tradurlo con ma in realtà ti amerai il tuo prossimo come te stesso io sono Dio significa che c'è anche un aspetto positivo e quindi il Sefer Akinuch lehov con lehad in Israele avat nefesh si implica anche quindi amare tutto ogni altro ebreo con avat nefesh cosa si dirà avat nefesh amore interiore quindi attenzione non è un comandamento soltanto pratico secondo il Sefer Akinuch altri invece prepondono per dire che è un comandamento pratico cioè che non si pretende di amare col sentimento ma solo con l'azione quindi fare del bene al prossimo invece no quel Sefer Akinuch punta su avat nef cioè su un sentimento interiore clomar è come dire che dobbiamo essere misericordiosi e perdonare tutto il popolo di Israele insomma ogni figlio di Israele quindi insomma c'è un aspetto interiore ora il punto però qual è se abbiamo detto che ci sono due aspetti uno negativo non fare agli altri e l'altro positivo fai agli altri quali gruppi di mitzvot sarebbero contemplati in questo modo di interpretare il versetto tutte le mitzvot positive verso il prossimo quindi fare Zedaka fare Gimilut Hasadim cioè tutto quello che è accompagnare al funerale un defunto rallegrare gli sposi aiutare colui che ha bisogno vestire chi non ha vestiti quello che noi chiamiamo mitazio dei cioè imitazione di Dio nel agire bene verso il prossimo però fin qua ci sono le mitzvot verso il prossimo in che senso queste raggruppano tutta la Torah perché la Torah è fatta anche di aspetti rituali e i maestri si chiedono benissimo se abbiamo detto che il Bel vuol dirci che tutta la Torah si basa su aspetti etici da questo versetto come facciamo a richiamare il fatto che anche gli aspetti rituali sono compresi in un aspetto etico dal fatto che ha scritto io sono Dio io sono Dio significa che non solo che dovrai fare queste mitzvot perché io te lo comando come dicevamo prima ma anche perché questo aspetto verso il prossimo è incluso nelle mitzvot che riguardano me cioè Shabbat Tfilah Kashrut e anche tutti gli aspetti rituali Korbanot addirittura infatti uno dei maestri contemporanei a cui poi faccio anche riferimento Rav Tenushkin dice chiaramente attenzione che qui c'è un insegnamento di fondo come primo punto da affrontare l'insegnamento di fondo secondo lui è che effettivamente la letteratura rabbinica a partire dal Talmud punti non solo all'aspetto etico ma segue quella che è la tradizione dei profeti avete mai sentito dire un profeta prendiamo Isaia Geremia Ezechiele che ti dice attento voi verrete esiliati perché non avete fatto bene l'offerta dell'incenso nel tempio no i profeti non dicono questo i profeti di voi verrete esiliati perché non ve li aspettate gli uni con gli altri perché il santuario è stato distrutto odio gratuito il secondo e anche il primo in gran parte quindi vuol dire che anche i profeti comunque vogliono in qualche modo rappresentando Dio far capire che Dio pensate al famoso detto che appunto non ci si deve anche rabbinico oltre che non ci si deve presentare di fronte a Dio con l'offerta espiatoria se non ci si era pacificati prima con il prossimo che hai di fronte tutto il discorso che ha a che fare con Kippur ma secondo quest'ottica Ratzelushkin dice quindi è chiaro che il Lel dica così e non dica che in qualche modo tutta la Torah è raggruppata dal fatto che bisogna mangiare kashè anche se anche mangiare kashè secondo altri rabbini ha un risvolto etico adesso vedremo però è ovvio che dice il non fare gli altri quello che hanno risultato ma aggiunge e secondo me questo è un punto importante aggiunge che solitamente si è portati a fare il contrario cioè se un se un goi venisse da me e mi dicesse o da me o da un altro rabbino mi dicesse io voglio diventare ebreo io che cosa dico io gli dico ok comincia a venire al tempio comincia a farti filare comincia abituarti a organizzare la cucina comincia abituarti a fare gli aspetti rituali pratici che sono più a studiare il sidur insomma ad allenarsi con la tefillacetro quindi noi facciamo il contrario di l'er noi diciamo alle persone la cosa più importante per introdurti all'ebraismo è l'aspetto rituale perché se abbiamo detto che già a partire dall'interpretazione del passo dall'unico di l'er in realtà sembrerebbe proprio che l'aspetto etico sia la chiave di volta di tutto perché c'è un aspetto pedagogico al quale non si può prescindere l'aspetto pedagogico prevale sull'obiettivo che ci poniamo quello di avvicinare la persona a tutta la Torah tuttavia bisogna stare attenti di non scambiare il particolare per il per i generali cioè nel senso di non scambiare l'obiettivo con il mezzo cioè l'aspetto pedagogico serve ma l'obiettivo della Torah come adesso Pasqua poi Maimonide è in realtà sostanzialmente etico e però adesso c'è una domanda di fondo se torniamo al versetto a chi si rivolge al versetto agli ebrei o a tutti è chiaro che nella prima parte del versetto è scritto loti conve loti toret beneame non non ti vendicherai non servirai nel cuore per i figli del tuo popolo nella seconda parte del versetto però c'è scritto di altare la cacca mandorai il tuo prossimo a me te stesso e allora che cosa vuol dire rea il tuo prossimo e ci sono vari commenti e il primo il primo che mi viene in mente è quello penacitato il sefer a finum cioè che si intende per rea chi sta chi sta davanti a te chi è con te in questo senso un figlio di israele anche per motivi simmetrici all'interno del versetto nella prima parte figli del tuo popolo nella seconda parte il tuo prossimo quindi vuol dire che il tuo prossimo è inteso con i figli del tuo popolo quindi con colui che è con te infatti quei maestri pongono una domanda alcuni dicono non solo che è uno che è come te nel senso che appartiene al tuo popolo ma è più che è come te nelle mitzvot cioè che è un ebreo chi conosce la Torah chi è lontano dalla Torah per scelta scusa chi è lontano dalla Torah per scelta allora non è contemplato nel tuo prossimo chi è lontano dalla Torah per scelta non è oggetto di questo amerai il tuo posto in realtà poi c'è una successiva interpretazione che dice si intende colui che volontariamente si distacca dalla Torah a giorno oggi la maggior parte delle persone non si distaccano dalla Torah volontariamente ma sono tino coci di scu sono colpanti in prigionia cioè persone che hanno vissuto la loro vita inglobati in un sistema educativo che ti allontana dalla Torah contro la loro consapevolezza quindi non possono essere tenuti fuori dal tuo prossimo inteso come colui che vive nella Torah e in più quindi ci sono altre fonti che vedete più avanti che brevemente che implicano quindi che il nostro obbligo è sicuramente di contemplare e di includere queste persone in questo comandamento e in più di avvicinarle alla Torah ma c'è anche un'altra fonte che dice che in realtà questo prossimo ha a che fare anche con altre persone che non sono colui che è come te nella Torah e nelle Mitzvot la fonte non è tra quelle da me copiate in ebraico ma è una fonte molto importante che è il Toregitra alba in cui si discute appunto su quale sia il principio secondo cui la Torah si fondi e Benazai ha opinioni diverse dalla Biachiva Biachiva dice che il più grande principio della Torah è l'altro prossimo a te stesso Benazai dice no io preferirei dirti un altro versetto questo è il libro delle generazioni dell'uomo Zes Felt Ordot Adan quando si parla della seconda creazione diciamo dove si parla della creazione dell'uomo del capitolo 2 della Genesi c'è qui impariamo che ogni uomo è immagine di Dio quindi qui c'è la universalità della dignità dell'uomo quindi del rispetto del suo prossimo c'è la risposta è quindi che il comandamento più grande è questo qui è un principio più generale la Biachiva risponde dice no ah ma il tuo prossimo non è te stesso è più grande ancora perché? perché c'è scritto io sono Dio quindi diciamo che ama il tuo prossimo a te stesso io sono Dio include il fatto che siamo tutti a immagine di Dio e quindi ci dobbiamo rispettare tutti e poi c'è un altro aspetto se il tuo prossimo debba necessariamente essere interpretato in senso restrittivo cioè il tuo popolo oppure allargato secondo questo confronto si può dare spazio a un allargamento ma c'è un'altra fonte che dice che effettivamente è se nella prima parte del versetto è scritto i figli del tuo popolo ma nella seconda parte del versetto è scritto diverso cioè il tuo prossimo in generale allora potremmo allargare questo tuo prossimo e quindi potremmo dire che se la torace ci dà un'indicazione ristretta prima e poi ce ne dà una più allargata dopo chi vince chi ingroba chi quella più allargata quindi il tuo prossimo deve essere riferito a tutti ma c'è un'interiore punto come te stesso come te stesso e il come te stesso lo trovate a pagina a pagina 4 c'è una discussione se il come te stesso debba includere chiaramente l'amore di se stessi o no cioè chi non ha rispetto per se stesso non può verne per il prossimo oppure poniamola meglio l'amore che io devo al prossimo cioè fai agli altri quello che volessi fosse fatto te così tra l'altro stabilisce il Maimonide nel Vishne Torah deve essere abnegazione necessariamente o c'è spazio anche per se stessi e qui c'è una discussione effettivamente la prima fonte che cito che il commentatore Iben Ezra di Ebali su questo versetto dice per me significa letteralmente cioè amerai come te stesso significa che bisogna trattare il prossimo esattamente come amite stesso quindi una sorta di abnegazione Rambam nel Vishne Torah stabilisce l'Arakan in questo modo dice bisogna amare ogni singolo comune se stessi chi gufo come il proprio corpo come se stessi in tutto e per tutto come scritto quindi la prima interpretazione sembra essere in linea con quello che potremmo chiamare abnegazione cioè siamo esattamente sullo stesso piano è vero però che la Torah nei casi estremi dà un altro principio che bisogna conciliare con questo la tua vita viene prima cioè nei casi estremi come si deve comportare cioè come fino a che punto deve arrivare questa abnegazione che io verso il prossimo e in più c'è un'altra domanda amerai il tuo prossimo come te stesso benissimo c'è spazio per odiare in quali casi invece non sono tenuto ad amare più che a di e la risposta è questa c'è chi interpreta appunto come rabbia chi va kamoha limitato dal fatto che comunque la tua vita viene prima e l'amore del prossimo non può necessariamente contemplare la totale l'applicazione di se stessi cioè il sacrificio di se stessi totale cioè non può comportare l'obbligo del sacrificio di se stessi infatti c'è quel famoso esempio nella chiamarale in cui si racconta che due persone hanno la stessa borraccia di acqua quantità di acqua che basta solo per uno e solo uno si può salvare arrivando a destinazione con quella quantità di acqua in realtà quella quantità di acqua basta solo per uno quindi se la bevono tutte e due muoiono tutte e due la domanda è chi la deve bere secondo l'abbia chi la deve bere colui che la possiede cioè che a quel punto appunto ciò che noi dobbiamo fare per il prossimo non necessariamente ci obbliga a sacrificare se stessi ciò non toglie che il sacrificio di se stessi se è una libera scelta non sia contemplata cioè se io per libera scelta è d'accordo con chi mi sta di fronte scelgo di sacrificare me stesso per l'altro ha una scelta possibile ma non è un obbligo perché il kamroha di libertà la kamroha si deve conciliare col principio che comunque la tua vita ha la precedenza o con un altro principio che è un'interpretazione sua volta rabbinica di questo principio che il tuo sangue non è più rosso del mio e il mio sangue non è più rosso del tuo quindi il mio diritto alla vita è uguale al tuo ma quindi in un caso estremo sono libero di poter pensare prima a me c'è però sempre spazio alla scelta del sacrificio e un'altra domanda che si che si pongono però maestri è benissimo c'è spazio per il non necessariamente non agire in questo modo per il prossimo abbiamo già detto prima che sembrerebbe da alcune fonti e queste le trovate a pagina 5 che da un versetto che compare nei salumi spedicolabile si potrebbe dedurre che appunto chi non è contene la Torah che è un chi si autoesclude in qualche modo dalla via etica della Torah può essere odiato in realtà qui c'è la discussione e la conclusione chiaramente è che c'è un limite e soprattutto l'odio non è verso la persona insieme ma è verso quello che la persona rappresenta cioè ti devi tenere lontano dal cattivo comportamento morale quindi devi odiare il comportamento morale e non il peccatore c'è un altro brano famoso in cui adesso non vorrei sbagliare il nome perché quindi non lo so se Rabbi Meir sono quasi sicuro che Rabbi Meir in qualche modo era infastidito dal comportamento fastidioso e morale di alcuni suoi vicini e pregava per la loro punizione di vita per la loro morte e la moglie gli dice cosa fa tu sei un'azza di che preghi per la loro non devi farlo e lui ascoltò la moglie nel senso che effettivamente c'è un limite all'odio infatti qui c'è una fonte dello Shulkanaru che dice in qualche modo che sostanzialmente che c'è un limite verso la persona che è lontana che deve essere avvicinata pone la fonte su tu quando devi rimproverare il prossimo per una colpa o per un comportamento ignorale o un comportamento non previsto lo devi fare sempre che questo non causi una reazione negativa sempre che questo non sbianchi il volto in pubblico sempre che questo in qualche modo comporti solo un'osservazione in merito a quello che la persona fa infatti è vero che c'è una bellissima c'è un racconto che è riportato a nome del Hazonish in cui un suo alun che è il più grande maestro del brismo del novecento e il suo alun mi chiede vabbè ma io c'ho un vicino di casa che sta trasverendo Shabbat palesemente perché imputa al giardino cosa devo fare devo rimproverarlo devo in qualche modo dire no perché è scritto non che così come mi fa dire qualcosa che verrà ascoltato mi fa anche dire qualcosa che non verrà ascoltato quindi significa che c'è un limite al rimprovero c'è lì c'è un limite da lì altri addirittura dicono che non solo ci sono dei limiti ma che questo in qualche modo prendere le distanze da Rasha in realtà al giorno d'oggi non è applicabile proprio perché Tino Kot e Shemishbu sono compati in prigionia quindi nessuno si distacca dalla Torah volontariamente ci sono una serie di Mitzvot collegate alla Mitzvah che abbiamo visto stasera e al versetto che abbiamo visto stasera tra le quali appunto Gemi Lodifazadim tutto quello che comporta sostanzialmente gli Akkhni Zochim ad esempio ospitare persone senza una timora ma anche temporaneamente fare in modo che una coppia possa sposarsi rallegrare le persone tristi così come si racchierano e le spose assistere e visitare i malati le intersegure con il suo Piezzi Bur occuparsi del bene comune del pubblico comunitario accompagnare e consolare coloro che sono in lutto e in qualche occuparsi della sepoltura e in qualche modo tutto un'altra vita quindi vuol dire che l'obiettivo di questa risposta di Indello è farci capire che l'essenza della Torah in qualche modo non può passare che attraverso questo versetto tutte le mitzvot negative verso il prossimo sono contemplate non fare agli altri però non volessero tutte le mitzvot positive verso il prossimo sono contemplate fare agli altri quello che volessero io sono Dio nel senso che tutto questo ha a che fare anche con le mitzvot che riguardano me non solo che io sono la fonte da cui derivano queste mitzvot ma se rispetti il prossimo rispetti me infatti dice il Bacento così come uno rispetta se stesso con i suoi difetti è tenuto a rispettare il prossimo con i suoi nella misura in cui uno rispetta il prossimo dice si capisce quanto è di rispettare questa è detta proprio a livello bambini elementari insunto della Allah che è derivato questo rispetto però c'è qualcosa di più di cui vorrei parlare stasera che ha a che fare con tutto ciò che è collegato in questa messa è collegato con questa mitzvah il versetto che si trova poco più avanti in questo versetto in levitico 19-18 benissimo tre versetti più avanti c'è scritto di amare lo straniero perché voi foste stranieri in terra gegetto quindi noi conosciamola perché tu conosci l'anima dello straniero nefesh quindi tu conosci la condizione quindi questo amare il prossimo momento stesso è comunque collegato anche all'amore di colui che è straniero altri versetti che sono collegati a questa mitzvah a livello pratico e vengono citati sono se il bue del tuo nemico e il suo asino si è smarrito abbi pietà di riportarlo se il tuo nemico ha fame dagli da mangiare se ha sete dagli da bere questo nei proverbi il precedente è in cerno quindi sostanzialmente c'è tutto nella letteratura mitrasca che dice cosa significa significa che se io vedo il bue del mio nemico che è faticato o che è smarrito glielo devo riportare a maggior ragione nei suoi confronti quindi vuol dire in sostanza che devo rispondere al male che mi è stato fatto col bene e il chassimismo su questo punto va oltre il din se fino adesso abbiamo detto che comunque c'è una misfa di distaccarsi dal male perché colui che è come te nella Torah è l'oggetto del tuo amore ma c'è anche il distaccarsi da colui che compie il mal cioè che non è una certa quest'etica poi abbiamo detto che i maestri comunque dicono che non significa che si tratti di coloro che sono lontani dalla Torah perché sono occupati i prigioni amati lo stesso Midrash si pone questa domanda Midrash dice così questa è un'altra fonte a volte rabbinatana è una fonte che non ho riportato in ebraico dice così quando allora è permesso odiare un uomo può pensare di dire si amano i maestri e si odiano gli allievi oppure si amano gli allievi e si odiano gli incolti cioè gli amaharetz cioè quelli che sono gli ignoranti per cui si amano ogni persona e si odino i kofrim cioè coloro che negano i principi fondamentali della Torah o i numarim gli apostati eccetera così ha detto Re Davide nei salmi che dicevamo prima dice non odio forse quelli che ti odono e non detesto i tuoi nemici nemici del Signore sostanzialmente nemici della Torah gli detesto con un odio implacabile come se fossero miei nemici dice Davide non è infatti detto però nel testo amerai il tuo prossimo ma in te stesso io sono Dio qual è il senso quindi di tutto ciò ama il tuo prossimo perché io sono Dio che l'ho creato però amalo forse solo se egli è giusto così come agisci tu altrimenti non devi amarlo rabbi Shimon figlio di Elasar dice no le parole amerai il tuo prossimo ma te stesso includono una grande oha khat una grande non si dice oha khat si dice un grande un pro un grande insegnamento una grande dimostrazione se tu ami il tuo prossimo allora io sarò ventiero nel darti una buona ricompensa altrimenti sarò come un giudice pronto a far pagare sostanzialmente quindi questo Midrash di Avot nel Rabinatan che è l'unica fonte in realtà Midrash che ti si pone il problema di che spazio ha ce ne sono altri di commentatori posteriori o medievali ma dell'epoca diciamo della Gemara addirittura della Mishnana in questo caso è una delle pochissime che si pone il problema di quale sia appunto il modo di interpretare che spazio c'è nel non amare all'interno di questo versetto dice alla fine poco alla fine poco perché è vero possiamo dire forse che non dobbiamo amare anche coloro che sono lontani alla fine no perché se tu lo farai sarà grande la tua ricompensa quindi come dire si deve andare oltre e allargare al massimo questa Mishnana ma il chassidismo poi nel settecento farà di più uno dei detti più famosi del chassidim è che bisogna amare a tal punto o l'altro da trasformarlo in un amico e questo però tra l'altro ha una fonte rabbinica perché è scritto chi è forte adesso li trovo dove chi trasforma un nemico in amico cioè sostanzialmente chi è forte chi trasforma un nemico in amico se il tuo nemico si è alzato per ucciderti e arriva a casa tua affamato danni da mangiare Midrash Vishle 25 ovviamente questa non è alakha perché abbiamo detto che l'alakha che si basa sul versetto contempla prendere le distanze contempla mettere il primo posto la propria vita quindi non necessariamente la benegazione di se stessi però la fonte ecco chi è santo chi è in realtà la traduzione non è esatta chi cambia un nemico in amico a volte nella vita della vita della binatana 23 esattamente la stessa fonte Midrash che citata prima cioè il Midrash fa oltre l'alakha e una parte della tradizione chassidica basandosi sul principio che spesso viene a essere base per un comportamento anche anarchico anche si basano i primi ciò da oltre la linea della legge e quindi anche il persino chassidico in qualche modo fa proprio questa visione chi è veramente forte chi è che applica bene questa lezione chi trasforma un nemico in amico cioè è vero che di fronte al nemico la mia vita viene prima in qualche modo mi devo distanziare dal male per compiere il bene ma in realtà qui ci si vuole insegnare qualcosa di più bisogna rispondere col bene al male bisogna influenzare il prossimo trasformarlo partendo da quello che la tua scritta dice cioè se il das non è se il bue è il tuo nemico in qualche modo quindi ha maggior ragione per il nemico quindi direi che forse il chassidismo ha fatto proprio questo insegnamento più di altri e forse è un insegnamento questa è la mia opinione personale da tenere in considerazione nell'epoca incondidiana cioè vero è che la non è così però è anche vero che se vogliamo interrompere la spirale di conflitto che possiamo avere tra di noi religiosi non religiosi o anche con persone che sono all'esterno questa è puramente la mia opinione personale quindi non deve avere un peso forse è il caso di fare proprio questo pensiero qui cioè il chassidismo forse nella sua radicalizzazione di questo di questo principio ci può dare un insegnamento per l'occhio e forse è l'unico modo per interrompere la spirale di odio e di diffidenza che c'è tra i corpi cioè se qualcuno mi fa male io gli rispondo col bene così che non potrà più dirmi che ha dei pretesti per agire male nei miei confronti in sostanza ecco Rabbi Meir lo opprimevano molto Rabbi Meir pregò perché morissero coloro che lo opprimevano ma gli disse a sua moglie Bruria su quale verso ti apporti forse sta scritto periscano i peccatori forse sta scritto peccatori no sta scritto peccati inoltre per seguire leggere bene il verso di enti non ci saranno più implora quindi la misericordia di Dio perché si pentano perché il desiderio di Dio ed è un'altra fonte che poi ho citato qui in ebraico al limite dell'odio verso il male è che il desiderio di Dio come dicono i profetti non è distruggere ma è far fare teshuva Yonah scappa dalla missione di Dio perché non ne ha voglia di far fare teshuva a i niniviti che erano i più malvagi dell'epoca e che poi avrebbero deportato gli ebrei in Babilonia in realtà insieme a poi i veri e propri babilonesi ma sostanzialmente non voleva farli fare teshuva in nome di un principio di giustizia bene Dio gli ha insegnato che non è questo il suo modo da gire il modo di girare è una misericordia e quindi lo scopo è la teshuva non tanto la punizione poi bisogna capire perché i niniviti perché i niniviti non sono ebrei ebrei faccio un altro esempio Ishmael l'abbiamo letto Ishmael nasce in realtà no non l'abbiamo ancora letto abbiamo letto comunque nell'altro è scritto Ishmael nasce è annunciato come nella parasha di questa settimana come per Adam uomo selvaggio bene quando verrà scacciato da sarà perché schernisce in modo poi interpretato in modo violento dal suo fratello viene cacciato nel deserto con sua madre e nel deserto rischia di morire di sete a grado non trova l'acqua a un certo punto piange e prega e Dio gli apre gli occhi e vede un pozzo a quel punto da avere al figlio il Midrash racconta gli angeli del servizio divino disse lo signore del mondo perché l'hai fatto vivere lui farà tutta una serie di cose contro il popolo ebraico perché l'hai fatto vivere la risposta di Dio è no io agisco per quello che lui è adesso quindi agisco con unità di racamini di misericordia e non esiste la giustizia preventiva adesso è un ragazzo che prego adesso è un ragazzo che fateci quindi concludendo forse un insegnamento un po' estremo basato su questi Midrashim che non sono ma che comunque ci sono nella letteratura rabbinica preso poi dal fascismo quindi di amare anche colui che ti fa del male c'è anche un bel gioco di parole su questo che riprendono Re Acha il tuo prossimo può essere letto anche dalla radice Ra che vuol dire male quindi colui che ti fa del male amerai per colui che ti fa del male come ami per te stesso cioè per fare la Kaka Maha vuol dire farai per il prossimo di tuo tutto quello che faresti per te cioè chi si spinge addirittura nell'elettorotensia a portare avanti questa interpretazione che ripeto non è pratica non è un'indicazione pratica ma c'è e forse ci può servire per in qualche modo scardinare quello che è la spirale di violenza di odio tra il proprio mi fermo per ora qui ci sarebbero moltissime altre cose una parte del materiale che l'ho dato e si potrebbe approfondirlo o successivamente o in altri io volevo dire che ci sono tantissime belle parole sta di fatto che molti anche persone molto religiose sono molto aggressive questo è un dato di fatto si dipende il cambio però sta parlando nel senso essere molto religiosi non vuol dire essere molto buoni la religione può essere un paraletto per far vedere guarda come sono bravo e poi la città no va bene ma se noi guardiamo anche la situazione in israeli noi vediamo che spesso voi coloni voi insomma sono spesso molto aggressive quindi come dire smentiscono tutto quello che ha detto fino adesso per rispondere cito una delle fonti che non ho ancora realizzato oggi mi sei in fondo il corretto il corretto modo allora ci fu un caso no? una razzina a a a a vestita non in modo pubblico che fu aggredita allora anche lì chi si è comportato così in realtà è contro la perché 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 l'alaha dice come dicevo prima se devi rimproverare il tuo prossimo devi fare in un modo di non abbiaccare il corpo non in pubblico con certe modalità e se sei sicuro che non ti ascolterà è meglio non dire ciò che non verrà ascoltato piuttosto così come bene dire ciò che verrà ascoltato è vero che c'è spazio nell'alaha per tenere a distanza colui che si comporta male cioè colui che non osserva la comunità però ripeto le fonti del recassidismo e cito l'ultima che non ho citato che Rabbi Schneus ha mandiliati che sostanzialmente è il primo rebbe della dinastia Shabbat siamo nella seconda metà dell'ottocento lui dice dal fatto che si impara c'è coreyudim shuvim zelase colisrela riprim zelase dal fatto che si impara il principio sulla base il quale tutto israele è mischiato l'uno con l'altro è unito lui dice in che senso è unito è unito nell'animo cioè non è che colisrela riprim zelase lui non lo legge zelase tutto israele è responsabile l'uno dell'altro lui lo legge coreyudim zelase sto a preghiamo coreyudim zelase tutti gli ebrei sono mischiati a coreyudim zelase questo in questo vuol dire che l'anima di ogni ebreo è collegata a quella di un altro e quindi che ogni ebreo con l'altro devono come se tutti gli ebrei fossero un unico e quindi vuol dire che questo veatale rechaka mocha include anche quello che è peccato che è fuori dalla tua addirittura quello che nega i principi di rechaka per riavvicinarlo ma ripeto questo approccio è un approccio chassidico basato sul midrash ma non è un dinar quindi è chiaro che se un religioso vuole tenersi alla linea della legge può chiaramente tenere a distanza anzi deve in alcuni casi tenere a distanza chi invece va lì sto semplificando all'assimo esistono comunque entrambi nel mondo dell'indicazione non tutti fanno correre dietro le persone per avvicinarle alla tua altri ritengono che sia controproducente che sia meglio rinforzare se stessi in un mondo riesce va e basta quindi e su due approcci molto diversi io credo che storicamente parlando il fascismo ha abbracciato questo secondo approccio cioè quello del del pacito cioè quello di andare a cercare di avvicinare che coloro che sono lontani e che non è scontato non è affatto scontato scusa solo una cosa spero di non aver capito lei parlava di coloni come prototipo non necessariamente non potremmo entrare in questo aspetto questo è facile non vogliamo dire cioè se passi da noi entriamo in questo però non lo diciamo i coloni è gente che crede in qualcosa che magari lei può non credere che può essere che vuole o può andare posso dire posso? non entriamo in questo fai un intervento non discutete così no e siccome sono state portate i coloni come fosse normale assoluto sono gente che fa qualcosa e per un'altra non è un argomento lì non è un argomento non è un argomento ma non discutete tra i voi nel senso finisci il tuo intervento no cioè e quindi non è gente cattiva è gente che magari crede in qualcosa vuole popolare delle zone io posso non volerlo ci sono questioni politiche ma non è gente che va usata come prototipo del male assoluto assolutamente no però se tu passi davanti a Mea Sherin di Shabbat non sto parlando dei coloni perché non parliamo dei coloni posso interrompervi che sia Mea Sherin che sia di coloni che sia chi è allora intanto colgo diciamo un aspetto l'aspetto c'è un aspetto di confusione secondaria ma è un aspetto il mondo chassidico barra Karebi di Mea Sherin non ha niente a che vedere con il mondo del sionismo religioso estremizzato di alcuni coloni sono due mondi diversi come Marte e il Giove detto questo il fenomeno della violenza appartiene entrambe le comunità ripeto il fenomeno della violenza non è mai giustificabile nemmeno alachicamente ma in più bisogna andare secondo me proprio invece a avere un approccio avvicinatorio verso il futuro la violenza nel caso da recitato è assolutamente antialachica perché di Shabbat prendere una pietra che è mucze cioè non si può toccare è esterna e usarla per danneggiare anche soltanto un altro oggetto senza tirarla in testa una persona ma rompere il vetro di una macchina e comunque trasvedire Shabbat oltre che trasvedire un precetto etico e oltre che trasvedire il fatto che la Torah le strade sono strade della gentilezza e tutti i suoi percorsi sono la pace quindi chiaro che è contro non è un modo adatto per riproverare il prossimo non mi ha detto prima detto questo una cosa è l'ebreismo ma altra cosa sono gli ebrei credo che questa sia la spiegazione perché quando Mosè cercava persone per fare la battaglia contro la vita la prima cosa alla scuola cosa che è che scriveva non io sono magari lo sono ma è deve avere paure questo non so che una cosa si riferisce nel testo non ricordo un passato di questo tipo ma battere Amalek o non so Amalek è un altro caso cioè Hitler status amico Amalek è tutto all'esterno di quello che abbiamo detto perché perché Amalek in realtà nella Torah rappresenta poi anche simbolicamente nella letteratura america tutto ciò che è anti ebraico ebraico di eccellenza antipopolo di Israele Amalek di fatto il male assoluto il male assoluto contro gli ebrei la domanda arachica è oggi esiste Amalek fisicamente c'è esiste un popolo al cui abbiamo il dovere di non solo difenderci ma cancellarne ricordo esiste esiste tecnicamente no non esiste fisicamente un popolo che si identifichi con Amalek e che si abbia l'obbligo di di in qualche modo cancellarne addirittura il retto di ricordo non c'è c'è figurativamente si dice che tutti coloro che predicano lo sterminio degli ebrei siano Amalek cioè Hitler fosse Amalek ma non abbiamo dal punto di vista tecnico il dovere di difenderci e non solo di difenderci ma di cancellare ricordo di Amalek nei confronti di queste persone antiriventi perché non sono di fatto veri discendenti di Amalek l'unico l'ultimo di cui sapevamo esattamente che era discendente di Amalek era Amman dopodiché non abbiamo oggi la concreta presenza del popolo di Amalek quindi tutto quello che sono le raccotte sul cancellare il ricordo di Amalek non sono applicabili verso le persone che sono qui al mondo oggi quindi non è applicabile se uno vuole un ciclo che si svegli prima che ci si il principio che dicevo prima non solo che la mia vita ha priorità c'è anche un'araccia che dice se uno viene lì a ucciderti difenditi e precedilo chiaro poi ci sono quelle fonti midrashica che però abbiamo visto prima estreme no se il tuo nemico si è alzato per ucciderti arriva il tuo affamato da gli mandati midrash mischle 25 si ma non è alla fa però è un modo di rispondere al male ed è un modo che il pensiero classico ha fatto proprio bisogna tenerlo in considerazione se viene uno in casa mia che ti vuole uccidere io lo invito a bere il tempo magari non ti uccide perché poi il pensiero è un'idea estrema un'idea che non ha a che fare con la laca la mente non prevede questo l'abbiamo detto però volevo darvi un po' anche provocatoriamente questo spunto su cui poi si basa in parte la letteratura classifica che in realtà poi ci richiama a insegnamenti che non appartengono alla nostra tradizione religiosa giusto? però però anche se non appartengono a la tradizione religiosa in realtà però la parte di somiglianza la troviamo anche nel midrash e nella letteratura classifica allora è giusto dire se qui tiano da una guaccia ma non c'è l'altra guaccia arriviamo a quel punto la fonte c'è nelle ha nelle mutazioni quello che leggiamo a c'è scritto l'uomo porca la guaccia che lo colpisce chiaramente è scritto non è alaka non è interpretato in questo senso ok forse si può anche interpretare non dico in maniera allegorica ma in maniera figurativa si assolutamente ed è questo il modo in cui viene interpretato all'interno della letteratura rabbinica diciamo nonostante c'è una parte di altrimenti se uno lo fa la rete certamente però un po' provocatoriamente volevo farvi presente queste queste amiche perché i grandi imparano a fare non di pubblici no si non sa la etica però comunque c'è questo aspetto mentre molti grandi lo hanno il concetto di direttamente 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 e poi quest'è l'apporto per me sì perché in realtà c'è chi interpreta come dicevo prima il fine del tuo popolo nella prima parte del versetto il tuo prossimo non è una seconda siccome è scritto amato l'uomo che ha creato immagini divina a me il tuo prossimo a te stesso si applica a qualsiasi uomo sulla base della regola mi prato mi prato dal particolare al generale cioè se una categoria viene prima annunciata e poi seguita da una categoria più ampia si applica la norma a una categoria più ampia questa è una interpretazione ripeto non è l'interpretazione alattica l'interpretazione alattica si limita a dire che ciò che riguarda la mizfatria amare il prossimo riguarda il tuo prossimo quindi i membri del tuo popolo e addirittura che sono come te quindi comunque però c'è tutto un aspetto che va oltre e che va oltre molto in questa situazione buonasera grazie 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 Grazie.